Un supervertice convocato per lunedì 3 ottobre dal Ministro dell'Economia Piercarlo Padoan a Roma nella sede del Ministero con la partecipazione dei massimi esponenti della Banca d'Italia e dei principali istituti di credito. Al centro dell'incontro tra le altre questioni la cessione delle quattro Good Bank nate dalle ceneri di Banca Etruria, Banca Marche, Carichietti e Cari Ferrara. Presenti al vertice oltre al Ministro Padoan, il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco ed i vertici di Unicredit, Intesa e Ubi con i rappresentanti di Acri, Abi e del Fondo Atlante. Un incontro dunque volto a cercare una soluzione per la cessione delle quattro banche ponte nate dalla risoluzione dello scorso 22 novembre dopo la seconda proroga concessa da Bruxelles negli scorsi giorni. Allo stesso tempo però la BCE avrebbe alzato le richieste e secondo indiscrezioni avrebbe chiesto un aumento da 600 milioni per dare il suo assenso all'acquisizione. Per Banca Etruria, Banca Marche e Carichietti si era fatta avanti Ubi che aveva sottolineato gli ostacoli della trattativa tra cui i prestiti non performanti che si portano dietro i tre istituti di credito nel mirino di Ubi Banca.